Quella che state vedendo è la mazza, la nuova arma appena giunta in Minecraft. Oggi ne parliamo ma ci sono anche tantissime altre novità, nuovi smiting template, nuovi elementi estetici, uno snapshot davvero incredibile. Quello che dovete fare voi innanzitutto è lasciare un like di supporto perché sarà un super video e mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi nessuna news. In coda a questo video vi darò anche delle news personali, Reddit e un nuovo canale YouTube. Ma partiamo subito. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo snapshot. Forse il più atteso degli snapshot della 1.21 da che hanno annunciato questa nuova arma. Ieri in live ne abbiamo parlato in maniera approfondita e benché la maggior parte delle idee andassero in direzione di una mazza o di un tirapugni vedendo l'oggetto che era stato spoilerato. Erano uscite un sacco di proposte e un sacco di idee per una nuova arma di Minecraft. E sarò sincero, l'idea di una mazza non mi faceva impazzire, avrei preferito altre cose, ma questa mazza non è una normale mazza per menare in giro. È un'arma che ha una sua particolarità e un'abilità unica che sarà in grado di stravolgere il gameplay. Ed è proprio quello che avrei desiderato da una nuova arma nel gioco. Quindi anche se non volevo una mazza, non me ne frega una mazza. Va benissimo così. Detto questo, partiamo dal principio. Come si crafta la nuova arma del gioco? Si crafta con due ingredienti nuovi che andiamo a scoprire insieme. Ovvero l'Evicore e, attenzione, perché è arrivata davvero la Breeze Rod. Quindi questi due elementi sono nuovi. La Rod del Breeze, che se ci fosse bisogno di un'altra conferma, lo rende più che canonicamente un parente del Blaze. Ora ha anche la sua Rod. E questo oggettino, invece, che è quel blocco strano che avevamo visto, che però non aveva la dimensione, la texture di un blocco, infatti è più piccolo, è Levi Core. Ovvero una sorta di misterioso oggetto metallico che troviamo nelle Trial Chamber. Non ne sappiamo molto, si può piazzare, come vedete. Quindi potrebbe essere anche un interessante elemento estetico, anche se piazzato potrebbe essere un po' sprecato. Vi faccio anche vedere che se andiamo a prendere un muretto, probabilmente, possiamo fare anche cose abbastanza fighe. Come vedete, si unisce alla perfezione. A differenza di una testa custom, non possiamo metterlo in obliquo. Per intenderci, la testa custom, che ha la stessa e identica forma, dimensione e quantità di pixel nella texture, si può mettere in obliquo. Questo no. Bene, abbiamo subito tolto un dettaglio aggiuntivo, una bella chicca, ma ovviamente se andiamo a prendere il Levi Core e lo fondiamo con la Breezerod, in questo modo, non diversamente ovviamente, è anche abbastanza logico, otteniamo la mazza. Un'arma che fa 7 di danno e ha 1.6 di attack speed, quindi di velocità. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che una spada, al massimo, può togliere 8 di danno e ha 1.6 di velocità di attacco. Un'ascia ha 10 di danno, al massimo, e 1 di velocità di attacco. O, ad esempio, il tridente ha 9 e 1.1. Quindi, questa mazza è paragonabile a una spada in diamante, sia per velocità, sia per danno in attacco, ma ha un'abilità in più che la rende decisamente più interessante di una spada, anche se poi, a livello di enchant, sarà tutto da vedere. La spada, diciamo, il set in ederite rimane più forte, però l'ascia ovviamente più lenta e anche il tridente, che è più forte in attacco, è più lento. Ma quindi, questa mazza, che cosa fa? Se esponiamo un Creeper, lo possiamo prendere letteralmente ammazzate ora, e notiamo che con tre colpi pieni, full caricati, va giù. Quindi è un'arma molto forte, bisogna dirlo. Ricordate che le Trial Chamber, comunque, non stanno nel fondo del mondo, stanno nell'overworld. Si raggiungono prima delle città antiche, quindi è un loot interessante, che non è da endgame, quindi non è la nederite, però il loot è molto interessante. Ma guardate che cosa possiamo fare. Sponiamo un sacco di mucche qui in giro, ok? Mi metto anche uno spawn point. E poi inizio a volare in aria. Quello che devo fare adesso è cambiare la mia game mode. Andiamo in survival. Io cado. E provo, e continuerò a provare, a colpire una mucca. Perché questo? Perché se la dovessi colpire, attiveremmo l'abilità speciale del martello. Che non sembra essere una cosa facilissima da... Da... Sì, vabbè, a parte che si spostano in continuazione le maledette bucche. Però... Ok, ce l'ho fatta. Non è immediatissima. Però che cosa è successo? Ho colpito con il martello la mucca, attivando il potere speciale. Che però così non si nota tantissimo. Vi faccio vedere con questi armor stand. Quindi, se riesco a colpirlo... Perfetto. Che cosa è successo? Ho creato un'onda d'urto, quella martellata, che causa knockback. E per capire la potenza del knockback, guardate dove sono finiti gli armor stand. Devo dire che non è affatto male. Alcuni armor stand sono volati di sei blocchi. Immaginate questo attacco in un multiplayer, in un pvp. Nelle bedwars. Atterri su un player con questo, lo spingi giù dal ponte e lui muore. Può essere davvero una cosa molto interessante. Perché quindi non ho subito danno quando ho colpito la mucca? Perché quando il colpo va a segno, Oltre a dare questo effetto di knockback e oltre a fare male il mob, Riesci anche ad annullare il danno da caduta. Il che vuol dire che se tu ti butti dall'alto con questa, Puoi scommettere sulla tua abilità. Se andrà a segno il tuo colpo, farai un sacco di dolore, Proverai, cioè, provocherai knockback e annullerai il danno da caduta. Quindi ti puoi lanciare da qualsiasi altezza, Colpire un'entità e annullare il danno. Se fallisci, prendi il danno da caduta, Non colpisci l'avversario o il mob o l'entità, E muori sicuramente. Quindi questa è l'abilità del martello. Ma non è tutto. Perché se io cado dall'alto e colpisco la mucca così, Magari cerchiamo di colpirla. Gli ho fatto... E l'ho uccisa in realtà, perché la mucca mi sa che non ha molti cuori. Proviamo da qui, tipo. Ok, riesco comunque a killarla. Come vedete, rispetto all'attacco da terra, L'attacco fatto in questo modo toglie molto più danno. Quindi è un attacco speciale che non toglie 7, toglie molto di più. Facciamo quindi una prova con un Iron Golem. Come vedete, gli ho fatto danno e gli ho provocato delle crepe. Ma se io cadessi da molto, molto più in alto, cosa succederebbe? Proviamo a colpirlo. L'ho killato con un colpo solo. Ho shottato l'Iron Golem. Perché da più in alto cadi, più sarà il danno del colpo se andrà a segno. Questa funzione è fantastica. Vuol dire che se noi cadiamo da un sacco in alto, possiamo shottare un boss, potenzialmente. Non sappiamo se ci sia un limite del danno. Ma sappiamo di per certo che il sottoscritto proverà a farlo. Quindi aspettatevi un video dove tenteremo di shottare a martellate un Wither. Però questo è un altro discorso. La mazza eredita questo potere dalla Breeze Rod, che contiene il potere del vento del Breeze. Possiamo dirla e vederla in questo modo. Peraltro gli sviluppatori consigliano di fare questa bellissima combo. Ovvero se andiamo a prendere la carica ventosa, noi possiamo spararcela sotto i piedi. Quindi facciamo tipo così. E poi boom! Atterriamo in testa il nemico e gli tiriamo una martellata. Non credo mi sia uscito molto bene però. Quindi riproviamo. Non ancora. Ok, in questo caso forse è uscito un po' meglio. Comunque avete capito il concetto. E questa cosa penso che a livello di PvP, ma non solo, porterà a una rivoluzione. Pensatela anche utilizzata nelle mappe parkour. O nella survival. Potremmo fare un metodo per scendere dalla torre, dove atterrando colpisci un armor stand, neghi il danno e sei atterrato. Sarebbe poco intelligente da fare, però è una cosa che in una mappa parkour potrebbe spingere il player a usare le sue skill con questa novità. E potrebbe essere una cosa nuova e molto interessante. Ma detto questo, abbiamo visto due nuovi oggetti, ma dove diamine li prendiamo questi nuovi oggetti? Beh, le novità non sono finite qui. Dobbiamo andare nelle trial chamber. Prima però, la durabilità della mazza è di 250. Ora non si vede perché questa è nuova, ma è di 250. Ok, adesso siamo a 249. La spada, invece, in nederite, ha una durabilità molto più alta. Arriva a 2031. Quindi, non durerà tantissimo la mazza, non possiamo abusarne. Speriamo magari l'aumentino un poco, perché mi farebbe piacere usarla un po' di più. Però, volendola, possiamo riparare utilizzando le blaze rod, che è il suo materiale, diciamo, di riferimento. Detto questo, questa mazza può essere incantata? La risposta è no. Possiamo aggiungere dalla anvil dei libri? Come vedete, sembrerebbe almeno per ora di no. Non so se in futuro potrà essere incantata, diciamo che ha già una sua abilità, tra virgolette, magica, però, attualmente sembrerebbe di no. Il grande peccato è non avere mending, ma soprattutto è negarsi alla possibilità di creare degli incantamenti unici per quest'arma, che ne so, tipo qualcosa che aumenti l'effetto di knockback che dà, potrebbe essere interessante. Staremo a vedere, per ora, pare essere questa la risposta. Ma dicevamo, queste blaze rod, dove le prendi? Non le blaze rod, le breeze rod. Le prendi dal breeze, logicamente. Il breeze, ora, dropperà una o due breeze rod. Ovviamente, se hai looting, ne puoi far droppare di più. Quindi il farming diventa molto più interessante. E pare che non droppi più le cariche di vento. Come vedete, droppa unicamente e solamente le breeze rod. Tra l'altro, io potrei killarlo più facilmente così. Bene, una volta ottenuta la breeze rod però, noi le cariche di vento le possiamo ottenere dal crafting, perché una di queste fa quattro cariche di vento. E siccome ne puoi ottenere una o due, di conseguenza è come ottenerne quattro o otto. Quindi diciamo che rispetto a prima è comunque un miglioramento anche per l'ottenimento di queste, se vi interessano. E ora, raggiungiamo la prima trial chamber che ho trovato. per dirvi che ora le trial chamber hanno nuove varianti, nuove stanze, peraltro questa è una nuova stanza, questa qui non l'avevo mai vista, c'è uno strano parkour, è decisamente una nuova stanza, e inoltre si troveranno nuovi oggetti. Quindi, ad esempio, nel corridoio dove pare sponeranno più spawner, come questo, troveremo i pot decorati. E vedete questo design? è nuovo. Così come è nuovo questo. Spaccandoli, ovviamente, nel modo corretto, ovvero in survival, ci mettiamo in survival, otterremo il pot che, rotto con un piccone, potrà darci le shared che lo compone. E ci sono tre nuove shared che possiamo ottenere in questo modo. Andando in vault, possiamo scoprire che hanno introdotto nuovi tesori. Frecce, frecce avelenate, minerali, non c'è andato molto bene. Hanno rimosso, però, le armature di cavalli e le selle che erano praticamente dei placeholder, non erano definitivi e direi per fortuna dato che non so più dove mettere le selle. Ma, come vedete, ha appena sputato una carica ventosa e un heavy core. Quindi, l'heavy core lo troveremo all'interno dei vault. Questo sarà il modo per trovarlo. E diciamo che ufficialmente abbiamo anche il nuovo tesoro unico delle trial chamber. È esattamente l'heavy core più tutti gli altri oggetti vari. Ma non è tutto. Perché potremmo trovare anche altre cose. Vediamo ora se ci esce qualche robina, se no ve le faccio vedere direttamente. C'è un arco incantato con power 2. Vabbè, non è andata molto bene qui. E stavamo dicendo ci sono dei nuovi tesori unici che troveremo qui dentro. Torniamo su e ve li mostro. Quali sono queste nuove shared? Abbiamo la gaster che è questa. Abbiamo la flow e l'altra che non so se abbiamo visto è questa, ok, quella con l'ascia, la scrape. Quindi queste tre shared produrranno poi i design dei vari pot combinabili con tutti gli altri ovviamente. E come avevamo previsto le shared diventano degli oggetti che potranno essere aggiunti anche nelle prossime versioni per aumentarne la quantità. Ma non è questa l'unica previsione che la community ha fatto e che porta una bella notizia perché troveremo delle nuove smiting template che ovviamente dovremmo collezionare. La prima si chiama Bolt e la seconda si chiama Flow quindi diciamo un flusso e Bolt dicevamo che può essere fulmine o bullone non so in questo caso cosa si riferisca ma sono ispirati al breeze e al tema delle trial chamber. Bene andiamo a provare ovviamente questi due quindi se mettiamo ad esempio Bolt sull'armatura o su quest'altro mettiamo Flow magari anche confermando la selezione otteniamo questo design per la chestplate e quest'altro che è stupendo mamma mia che bello ora vi faccio vedere anche un armor stand completo ed ecco i due design completi sono davvero molto belli forse tra i set più belli che hanno aggiunto in questo modo devo dire questa è la parte dietro sembra una faccina questa però vabbè comunque anche qui c'è una faccina triste va bene comunque è molto molto carino ricordatevi potete combinarli con tutte le armature anche l'elmo di tartaruga con diversi materiali quindi insomma le combo disponibili sono davvero tante e una volta ottenuti questi template come si farà a duplicarli? beh il bolt utilizza il blocco di rame o il blocco di rame waxed quindi con la cera essenzialmente mentre l'altro di cui non ricordo già più il nome ovvero flow si fa con non mi ricordo la blaze rod è vero giusto il colore è quello la blaze rod molto strana come scelta però diciamo che è la breeze rod non la blaze rod la breeze rod devo abituarmi a sto nome diciamo che è il template del breeze quindi ci sta l'altro è legato più al rame e se è legato al rame possiamo dire che bolt è inteso come bullone probabilmente in quel caso ma non finisce qui perché potremmo trovare altri due tesori ragazzi non sono finite le sorprese si sono dati davvero da fare sono stati aggiunti infatti due nuovi pattern il pattern gaster e il pattern flow non c'è invece un terzo pattern abbinato a bolt in questo caso come vedete che cosa sono i pattern se non vi ricordate sono quegli aggeggi che permettono di fare dei particolari pattern per l'appunto sui banner che poi possono andare anche sugli scudi vi ricordo quindi insomma anche qui parliamo di cose molto interessanti adesso vado a prendere due banner a caso così e andiamo a mettere il loom vediamo subito il primo pattern che è flow e poi andiamo a mettere gaster che produce invece quest'altro e ragazzi ho sbagliato questo qui è flow questo qui è gaster otteniamo quindi questa sorta di chiocciola di si una sorta di chiocciola volendo di spirale e poi una sorta di breeze hanno molto potenziale all'interno dei pattern perché sommati con gli altri stili possono dar vita a nuovi disegni a nuove possibilità anche per creare le proprie bandiere e di conseguenza personalizzare il proprio scudo dopo le varianti di lupo che aggiungevano un sacco di cose dopo le armature di lupo colorate che ci permettevano insieme alle varianti di personalizzare il nostro lupo a piacimento ora abbiamo ancora più personalizzazione per i nostri basi le armature i banner insomma sono delle novità che sono davvero tanta roba ci permettono di fare un sacco di cose derivative nuovi stili combinati insomma tante tante cosette interessanti anche questa settimana ci sono bug fix novità tecniche e migliorie per quanto riguarda i datapack sui datapack magari un giorno faremo un video riassuntivo dato che c'è davvero tanta roba nel complesso comunque ci sono anche dei cambiamenti ovvero hanno modificato aggiornato la diciamo intelligenza artificiale per modo di dire ormai si usa per altre cose questo termine di volo delle api e dei pappagalli hanno anche aggiunto un sistema che permette di distinguere gli effetti le particelle degli effetti dati dalle pozioni quindi teoricamente se io mi dovessi dare un effetto di pozione tipo che ne so levitation ok infinita no ma è levitation un po' scomoda facciamo anche no ci diamo l'hack ci sta infinita uno e non nascondiamo le particelle e poi andiamo a darci dopo l'hack qualcosa di diverso tipo water breathing ok dovremmo poter vedere distintamente le due particelle vedete non emetto un solo tipo di particella ma ne sto emettendo due questa è una cosa che prima non si poteva fare può essere carina per distinguere meglio che effetto ha un player o chissà che altri scopi potrebbe avere a livello estetico pare sia stato potenziato l'effetto di blur che abbiamo quando apriamo i menu quando vediamo i menu di gioco questa è la modifica che è stata messa nelle ultime settimane che è sempre settabile nel menu di accessibilità comunque mentre c'è un update per la texture dell'armatura del lupo quando viene rovinata peraltro quando noi andiamo a sponare così un lupo o con un uovo di spono o con un comando a seconda del bioma uscirà un diverso tipo di lupo nelle praterie naturalmente non sponano i lupi ma con l'uovo spone il lupo base così come ad esempio il lupo delle wooded bedlands sponerà in tutti i biomi della mesa se utilizziamo l'uovo così come quello della savana plateau sponerà anche nella savana normale se usiamo l'uovo e così come il rusted spone in tutti i tipi di giungla usando l'uovo ma in survival naturalmente solamente nella jungle edge questa è una piccola cosa piccoli dettagli che però vi racconto così sapete anche questa cosa ora mettiamo l'armatura e andiamo a danneggiarla magari facciamo una bella martellata ok e c'è stato quindi un update della texture di rottura dell'armatura probabilmente una una novità minima che non abbiamo notato del tutto e che adesso ho rotto l'armatura quindi non è stata una gran cosa ci fai vedere bene 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 che cambiamento c'è proviamo a vedere subito si è un effetto rottura non vi saprei dire esattamente cosa è cambiato rispetto all'altra volta mi sembra un po' meglio distribuito l'effetto mi sembra che si rompesse tutta di lato e solo dopo sopra le altre volte però vabbè una piccola novità che sicuramente non fa male e detto questo prendo il volo per dirvi una cosa io non mi aspetto tutte queste novità non me le aspettavo e continuo a non aspettarmele e lo dico ormai per non so per portare fortuna visto che ogni volta che dico non mi aspetto altro mettono un botto di roba diciamo che questa versione la stanno sviluppando tardi rispetto le altre il che è molto strano e volevo condividere quindi un ragionamento con voi tutte queste novità non riguardano la 1.21 quelle di oggi sì ma quelle dei cani dell'armatura riguardano la 1.20.5 che è una versione relativa alla 1.20 quindi l'aggiornamento precedente sono due cose separate e c'è un sacco di confusione in merito e dato che quella versione non è ancora uscita mi sono domandato ma non è che la 1.20.5 uscirà magari a ridosso del compleanno di minecraft come sorpresa per i 15 anni di minecraft quindi prima rispetto al solito come versioni principali e magari la 1.21 a quel punto non uscirà a giugno ma un po' più in là potrebbe uscire qualche mese dopo per giustificare un delay maggiore rispetto a questa sottoversione che ha comunque un sacco di aggiunte la 1.20.5 è una sottoversione anomala avrà un sacco di novità con sé e la 1.21 magari uscendo più tardi potrebbe ancora riservarci qualche novità chi lo sa al momento sono tutte cose inaspettate come la mazza ad esempio i template che ce li aspettavamo direi che possiamo aspettarci anche un nuovo disco musicale ma che probabilmente verrà inserito tra le ultime cose come della tradizione è in coda tutto le novità personali voglio essere veloce se siete arrivati arrivati fino qui presumo che vi interessino comunque ho deciso di aprire un subreddit non l'ho mai fatto o per meglio dire lo avevo fatto ma non l'avevo mai usato e questa volta vorrei fare le cose fatte bene non so se andrà in porto la cosa ma vi avviso che sul mio discord che trovate come invito al link discord.arenblaze.it c'è una zona provini dove potete proporvi come staffer per il reddit se tra voi c'è qualcuno che si intende di reddit e vorrebbe aiutarci a gestire il subreddit della community faccia pure il provino si faccia avanti perché stiamo cercando persone che ci possano aiutare in modo da poterlo gestire in maniera ottimale e quindi aprirlo l'altra novità ben più interessante spero è che sto pensando di aprire un nuovo canale youtube sarà un canale youtube che non tratterà minecraft tratterà tutt'altro sempre gaming però video lunghi e con un altro tipo di videogiochi per ora non vi voglio spoilerare altro vi volevo solamente preparare alla notizia dicendovi che il canale esiste già e che ha il logo ufficiale quindi come questo canale con una colorazione dello sfondo diversa in modo che i tre canali youtube erenblaze erenblaze live e questo nuovo abbiano lo stesso avatar per essere precisi con tre sfondi e tre colori rappresentativi diversi il canale esiste già non è indicizzato se lo cercate occhio ai fake perché non si trova lo trovate solamente cercandolo dall'indirizzo dall'endol che però comporta anche sapere il nome e per ora non ve lo dico è un segreto se volete cercarlo darvi una caccia al tesoro fatelo pure siete liberi di vedere se scoprite qualcosa io al momento giusto ve ne parlerò e lo lancerò per bene e vediamo come andrà vi avviso che sto registrando già una serie che uscirà appena aprirò il canale sono già al settimo episodio pre-registrato non vi dico altro direi che abbiamo visto un sacco di novità per oggi quindi è tempo di salutarci noi ci vediamo anche in live stasera e non domani perché ho sbucciato i giorni quindi alle 20.30 saremo sulla survival a cercare testare cose probabilmente e forse uscirà anche uno short quindi devo andare assolutamente a sbrigarmi e lavorare un saluto da Eren ciao a tutti